un metro e 62 per 38 chilogrammi e mezzo ecco lei che è giunta in finale delle sovietiche unitamente alla Timoshenko la terza del terzetto sovietico Oksana Costina non ha potuto entrare tra le finaliste in quanto soltanto due ginnaste per nazione hanno diritto di accedere alla finale grazie a tutti meraviglioso anche l'esercizio di Oksana Scaldina grazie a tutti